84 e 90 sono i minuti buoni sulla ruota di Trani, quelli in cui la Vigor ribalta la sentenza del campo, partorita e anche difesa con merito da un Gallipoli organizzato e passato in vantaggio dopo 35 minuti con un piazzato di podo. La firma del pomeriggio del comunale è di Antonio Picci. Il centravanti barese prima si inventa una prodezza inrovesciata per agganciare i salentini, poi è glaciale dal dischetto per il centro del definitivo 2-1 che vale alla squadra di Sisto il sorpasso nel tabellino e la prodo a quota 15 punti in classifica, sarebbero 18 senza i tre di penalità. La partita si gioca su un campo ai limiti della praticabilità ma a Trani questo fa poca notizia da qualche settimana a questa parte. Sisto sceglie il 4-3-3 per la Vigor con Musa e Negro a sostegno di Picci, Salvadore risponde con il 4-3-1-2, Fernandez ispira Stefani e Alemanni. Avvio di partita senza emozioni e con tanto nervosismo, nella prima mezz'ora finiscono sul tacquino degli ammoniti dell'arbitro Aratri, Portaccio, Schirinzi, Ceglie, Picci e Campanella. Al primo vero tiro in porta il Gallipoli passa in vantaggio, Campanella commette fallo su Alemanni, dell'esecuzione della punizione dai 30 metri si incarica a podo, sinistro teso che trova un pellegrino in lieve ritardo e vantaggio ospite tra le proteste dei tifosi di casa. Sisto cambia, fuori Ceglie, dentro Antonacci, incassato il colpo il Trani reagisce. Musa affonda a destra e crossa sul secondo palo. Negro si coordina da ottima posizione ma conclude in maniera imprecisa. Due minuti dopo ci prova Dentamaro con una punizione dai 30 metri, Bacca è bravo a non farsi ingannare dal rimpallo sul terreno infido. Sulla respinta Bartoli non trova lo spazio per calciare. La frazione si chiude con un tentativo dai 25 metri di Negro che non trova la porta dopo una deviazione. Nel secondo tempo si vede un Trani più aggressivo. Al settimo, sul lancio da destra, Picci lavora la palla a spalle alla porta e serve al volo Musa, contrastato al momento dello stacco da De Leo. Dalla bandierina va Dentamaro che per poco non sorprende Bacca, bravo a ritrovare la posizione. Sul corner seguente stacca Campanella che non trova l'impatto vincente. A metà ripresa, bis di occasioni per il raddoppio Gallipolino. Stefani spreca su fuga di Alemanni da destra, il numero 9 a porta vuota, stacca clamorosamente a lato. Poi Fernandez va al tiro dai 25 metri. Pellegrino vola a deviare in corner. Prove tecniche di rovesciata per Picci alla mezz'ora. Dopo il salvataggio di Gubello sul piattone del potenziale 1-1 di Antonacci, il numero 9 accorre su una respinta della difesa ma spara alto in volè. Si arriva così al minuto 39 del secondo tempo. Bacca respinge un tiro di Negro dalla distanza. Musa la recupera, mette al centro e Picci si inventa il gol del sabato. 1-1 ed esplosione di gioia per la Vigor. E' il gol che cambia l'inerzia della partita. Al novantesimo Carruezzo tocca con il braccio largo su cross di Mazzilli. Aratri non ha dubbi e indica il dischetto. Picci è freddo, palla a sinistra, portiere a destra 2-1. Nel recupero di 6 minuti il Gallipoli non riesce a pungere. Salentini ferme a quota 10, la Vigor invece sale a 15.